Tu stai portando un pezzo di quel territorio, quindi quando io faccio una scultura con la pietra del Vallo di Diano in qualche maniera sto spostando quel territorio quindi il mio lavoro è anche un po' quello di portare il mio territorio fuori che poi sia anche in un disegno, in una traccia che però secondo me involontariamente, inconsciamente io quel disegno, quella traccia comunque nasce dall'esperienza che tu fai in dei luoghi Tu stai viaggiando, stai incontrando diverse pagine di un libro soltanto che il capitolo si chiama Italia ma poi è dentro un altro sottocapitolo che si chiama Europa, Mondo, Universo cioè io ti auguro di andare sulla Luna e raccontarci pure quello Grazie a tutti Grazie a tutti